Valeria Marini stuzzicanto nell'Elia e volano parole grosse, le due concorrenti in giardino se ne dicono di tutti i colori. Valeriona nazionale perde letteralmente le staffe del scontro totale con l'Elia, protagonista in questo reality di numerosi litigi. Si tratta di un nuovo colpo di scena al GF VIP, dopo la megalite con Patrick e Contesti, l'Elia che ieri aveva sbottato contro Fernanda Lessa, ora prende di mira Valeria Marini che a sua volta accoglie l'occasione per agitare le acque seguendo le regole dei reality dove le strategie sono la base di tutto. Tensioni, frizioni, fibrillazioni, tutto questo può accadere nelle prossime ore al GF VIP tra l'Elia e la Marini. Intanto chi conosce bene la Marini svela che difficilmente possa esserci amicizia e friling con l'Elia. E' anche vero però che Antonella in questo momento ha inervi fior di pelle dopo il poverone che l'ha investita con la storia del suo fidanzato Pietro delle Piane, paparazzato con fiore argento, la sua ex. Motivo del litigio? L'amicizia contesa con Aristide e malnati. Chi l'ha conosciuto prima? Domanda assurda. Aristide, calmo come sempre, cerca di placare l'ira delle due concorrenti trovandosi al centro della contesa. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.